Il famoso contest Top Fashion Model per il secondo anno consecutivo sta preparando il calendario con le sue modelle e una testimonial d'eccezione. I ricavati andranno alla Lilt, vi facciamo curiosare sul set. Uno shooting speciale per celebrare le Top Fashion Model pugliesi. Ad organizzarlo è la Carmen Martoran Eventi, agenzia di moda e spettacolo affermata a livello internazionale che trasforma giovani modelle in icone di stile e bellezza. Questo calendario a scopo benefico, Pro Lilt, che è la Liga Italiana Lotta Tumori, sezione BAT. Quindi i protagonisti sono le nostre modelle pugliesi, quest'anno abbiamo anche due modelli. Un set d'eccezione, la perla del doge a Molfetta, l'importante dimora storica e riva al mare, definita una delle più belle in Puglia. All'evento ha partecipato anche Roberta Molinini, Top Fashion Model 2017, punta di diamante dell'agenzia ormai lanciata nel mondo della moda, di ritorno dalle recenti Fashion Week di Milano e di Parigi. Truccate e acconciate da professionisti del make-up e dell'hairstyle, coordinati da Gioele Deliso del giornale del parrucchiere, le modelle hanno indossato le creazioni sartoriali di Emilio Sasso, che si presenta con una collezione sposa tutta nuova. Lo stilista Lucano è oggi apprezzato da diversi personaggi del panorama artistico nazionale. Sempre intenso e sensuale, ricco di bellezza e femminilità, lo stile di Giulio Lovero, design bitontino, che con le sue creazioni ha reso l'evento un vero e proprio set d'eccezione. Lo shooting è stato arricchito dalla Calcagnile Academy, che sin dal 1984 è centro di ricerca e contenitore di attività in continua espansione. Sempre attenta ai bisogni formativi e occupazionali, costituisce un laboratorio permanente per la formazione di profili professionali competitivi nel settore dell'abbigliamento, del design di moda e del costume per il cinema e lo spettacolo. Madrina dell'evento, il volto noto Giussi Frallonardo, attrice di teatro, fiction e cinema, la sua attività teatrale non conosce sosta dagli esordi fino ad oggi e culmina con Hell in the Cave, versi danzanti nelle grotte di Castellana, spettacolo di Enrico Romita e la stessa Frallonardo, tratto dal primo cantico della Divina Commedia di Dante Alighieri. Gli scatti sono stati realizzati da fotografi selezionati fra le eccellenze del territorio. Ne saranno scelti 12 per comporre il calendario 2019 di Top Fashion Model, che verrà presentato presso la Perla del Doge con una cena di beneficenza. L'iniziativa è infatti a sostegno della Lilt, la Lega Italiana lotta ai tumori, sezione provinciale BAT, impegnata nella Lilt for Women, campagna nastro rosa volta a sensibilizzare le donne alla prevenzione del tumore al seno. L'iniziativa è infatti a sostegno della Lilt, la 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 Lilt.